Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane d'oggi, io vieterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrati, seguitemi. Se vi ritroverete soli, a cavalcare sui verti braterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campionisti e sarete già morti. Fratelli! A mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riechietta dell'eternità. Mi chiamo Massimo Vettimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix, serfo leale dell'unico meno imperatore Marco Aurelio. Madre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. Rietro la mia vendita. In questa vita o nell'altra, in questa vita o nell'altra, al mio segnale, scatenate l'inferno. Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riechietta dell'eternità. Io non sono stato il migliore perché uccidevo quello che mi ha detto. Ero il migliore perché la folla mia amata conquistere la spazza e conquisterai la spazza. Conquisterò la folla e darò qualcosa che non avevo mai visto prima. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Buone, 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 buone con i contasini per me. E per me, per me, per me, per me, per me, per me, per me. Una rete stupenda, un passaggio con i contragiri da parte di Cattrotta e per la Juventus sembra essere fatta quando siamo al ventottesimo minuto. Al mio segnale, scatenate l'inferno. A tre settimane d'oggi, io vieterò il mio racconto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i rampi, seguitemi. Se vi ritroverete soli, a cavalcare su venti praterie col sole sulla faccia. Non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campi elisi. E sarete già morti! E sarete già morti! Aterri! Aterri!